vediamo tutta la procedura di installazione di minecraft parlo di minecraft ufficiale quindi quello che si compra per 23,95 euro nel sito minecraft.net e qui c'è la versione in italiano occorre farsi un account, questo lo salto un secondo lo accediamo e supponiamo di aver fatto il nostro account e quindi di registrarci con la nostra email una volta entrato, quindi vedete che siamo con la nostra mail e tutto il resto dobbiamo scaricare, la primissima cosa è di scaricare il gioco il gioco si scarica, quindi si va in questo punto e si scarica un file abbastanza semplice quindi facciamo lo scaricamento e c'è un installer tra parentesi c'è anche altre possibilità per scaricare anche per macOS o per linux in realtà la cosa più semplice dato che l'installatore in realtà è uguale si può installare, no, questo qui è proprio per minecraft e questo per linux è un .jar ok, la cosa più generale, più generica è minecraft.jar quella per linux che vale anche per tutti gli altri sistemi quindi noi possiamo scaricare questo oggetto sotto in un punto in cui sappiamo dove andarlo a rintrecciare quindi per esempio sotto il disco D, minecraft.jar, quindi scarico la versione per linux anche se sono su windows e poi vado ad installare ora, l'unica cosa, qui in questa macchina ho già installato minecraft nel tentativo di ripartire da zero devo cancellare l'installazione precedente allora, l'installazione precedente è tutta contenuta dentro una cartella che si chiama .minecraft questa cartella .minecraft la trovate sotto windows in questa coordinata sotto linux in questa coordinata e sotto macOS in questa coordinata essendo che sono sotto windows vado sotto questo punto %appdata slash .minecraft ok, quindi quello che faccio premo windows e per esplorare e poi qua scrivo esattamente quello che mi ha detto %appdata %var .minecraft e vedete che abbiamo esattamente tutta la mia installazione precedente che adesso vado a modificare nel senso che li cambio nome hold nel momento in cui ho cancellato l'appdata .minecraft è come se non avesse più minecraft installato quindi quello che faccio adesso è cioè di lanciare questa applicazione questo minecraft.jar e partire da zero notate che se avesse scaricato l'MSI è più o meno uguale allora andiamo a apriamo questo questo signore lui in questa versione per linux che vedete che comunque sta funzionando anche sotto windows entra e chiede praticamente l'identità ora dovete mettere la vostra identità quindi io metto vediamo se me l'ha riconosciuto perfetto ok questo launcher dice che non è quello giusto quindi proviamo a scaricare il nuovo ah ok mi chiede comunque l'MSI vabbè facciamo con l'MSI ok quindi ce l'avevo già installato ma lo reinstalliamo ok visto che era già stato installato mi chiede di ripararlo quindi faccio repair mi chiede l'autenticazione da super user e a questo punto diciamo che il questo qui quello vecchio non ci interessa quindi definitivamente ci conviene scaricarlo per windows su questa su questa pulsante andiamo quindi dovremmo trovarcelo nei programmi installati quindi se andiamo su all programs dovremmo trovarlo nell'elenco dei programmi sotto minecraft abbiamo a questo punto il nostro minecraft by mojang ok quindi andiamo a vedere vedete la prima volta che entra si fa un po' di scaricamenti da internet poi in realtà sarà molto più veloce e dopo un istante questo è tutto tempo reale quindi lui sta facendo i suoi mestierini ok allora vedete che c'è un nuovo look ed è proprio questo che volevo farvi vedere il nuovo look ha creato imbarazzo a diverse persone e quindi cerchiamo di spiegarlo quindi anzitutto vediamo che è possibile dirgli di parlare in italiano visto adesso e prima non me ne ero accorto e quindi abbiamo gioca e tutto il resto quindi italiano non è completamente fatto ma ce l'abbiamo quindi vedete che la versione ultima è 1.11.2 e se clicchiamo qua andiamo su questa versione in effetti non è allora questo qui lo mettiamo schermo intero così ce la vediamo tutto allora notate che a volte vi si chiede di giocare su di usare una versione specifica e quindi diventa importante sapere come operare quindi vedete che c'è questa linguetta che assomiglia a quella di cellulare che permette di accedere a varie impostazioni quindi qui abbiamo notizie che serve la prima che è quella che abbiamo visto prima che è quella che permette di giocare subito skin quella che vi permette di cambiare la skin del vostro personaggio vedete potete appunto cambiare Steve o Alex oppure sfogliare per cercare delle altre skin che diventano associate al vostro personaggio impostazioni allora io di solito abilito questo in modo tale che il launcher rimane aperto così poi non devo poi andarlo a cercare se devo uscire per cambiare versione e a volte se ci sono dei problemi si può abilitare anche questa seconda opzione mentre invece l'opzione di avvio è proprio quella che permette di cambiare le varie possibilità di scelte vedete che all'inizio c'è una sola possibilità la 1.11.2 ma io ad esempio ho dei server con cui entro con la 1.11 quindi cosa faccio? torniamo un attimo qua quindi clicco sul più nuova opzione di avvio e mi si presenta tutto un elenco di possibilità per esempio io voglio se volessi lavorare con una versione molto vecchia per dire arriva fino alla 1.0 ma normalmente a volte trovate dei server che vogliono la 1.8 o la 1.7 1.7.10 io in realtà lavoro con dei server 1.11 quindi 1.11 qui metto il nome quindi per esempio questi qui sono i server edu3d che chiamo edu3d e la release diventa quindi la 1.11 a questo punto faccio salva vedete che lui mi salva tutto nella famosa appunto minecraft quindi salviamo questa opzione e vedete che abbiamo ultima versione 1.11.2 tanto se clicchiamo questa ah ok non gli possiamo cambiare nome in questo perchè è l'opzione di default quindi la chiama così se volessimo fare una versione 1.11.2 e chiamarla per esempio indire che c'è il server indire facciamo così quindi 1.11.2 indire beh perfetto se volessimo cancellarla a parte che possiamo cambiare anche la risoluzione nella diretta del gioco potrebbero anche metterla da un'altra parte se volessimo eliminarla abbiamo elimina torniamo quindi a questo punto alla nostra notizia vedete che a questo punto avendo più opzioni di gioco qui abbiamo un menu a tendina e selezionandolo possiamo selezionare di andare su edu3d o su indire indire vuol dire la 1.11.2 piuttosto che la 1.11 ok questo punto è sufficiente selezionare ad esempio voglio entrare su questa versione e poi faccio gioca la prima volta si scarica tutta la versione 1.11.2 quindi ci impiega un pochino di tempo tutto in tempo reale quindi vedete che ho una DSL relativamente veloce quindi dovremmo farcela in un tempo umano se voi avete un internet un po' più lento può impiegarci anche decinaia di minuti alcune persone hanno impiegato tempi lunghi ci siamo quasi siamo a metà però sembra che sia un po' più rapido nelle ultime parti tenete conto che tutto questo tempo di ingresso accade solo la prima volta le altre volte non ce n'è bisogno quindi ogni volta che compilate un'opzione di avvio nuova lui deve scaricarsi una versione corrispondente di Minecraft ok quindi a questo punto vedete che sta lavorando e abbiamo la finestra Mojang perfetto allora questo possiamo metterlo full screen e poi ancora vediamo le cose più non so se lo sentite comincia a fare musica quindi per di non fare troppa musica siamo andati sulle opzioni e poi andiamo su music and sounds e possiamo ridurre quantomeno il volume del suono ok e possiamo poi mettere tutto ciò che vogliamo quindi mettiamo così non c'è proprio suono mettiamo leggerissimo sottofondo se proprio vogliamo possiamo mettere i sottotitoli se abbiamo tolto la musica i suoni eccetera possiamo mostrare i sottotitoli in modo tale da vederli non è necessario quando abbiamo finito ok facciamo fatto ah una cosa possiamo scegliere la lingua quindi la lingua andiamo e selezioniamo l'italiano visto che siamo italiani visto che molti di voi clicchiamo su italiano non succede niente perché ci impiega un po' quindi all'inizio può essere disturbante ma dopo un po' dovreste vedere tutto trasformarsi in italiano anche qui in tempo reale quindi sta facendo tutto un mestiere ok quando vedete che è scritto in italiano è fatto quindi andiamo qua andiamo di nuovo sull'audio questa volta e vedete abbiamo il volume generale e il volume specifico sottotitoli fatto solo prima di abbandonare questa cosa grafica se avete dei problemi potete mettere grafica semplice invece di sofisticata che permette di utilizzare un po' di meno il computer l'istanza di resa 12 chunk ogni chunk mi sembra 16 blocchi c'è un pezzettino di mondo abbastanza piccolo 12 chunk vuol dire che vedete fino a una certa distanza se lo mettete alto 32 vedete abbastanza lontano se mettete basso vedete in condizione di nebbia diciamo che 12 chunk di solito va bene altre cose non starei a farvele vedere abbiamo visto in alcuni casi che con alcuni problemi si potrebbe dover cambiare il v-sync ma diciamo che normalmente non c'è questo problema l'audio è ancora troppo elevato mettiamolo al 2% ok direi che così siamo a posto per poter iniziare quindi facciamo il giocatore singolo quindi giocatore singolo per cominciare quindi dobbiamo selezionare uno dei mondi che all'inizio non c'è nessun mondo giocatore singolo vuol dire che lavorate sul vostro computer e non siete in server quindi potete lavorare anche a questo punto senza internet creiamo un nuovo mondo il mondo lo chiamate col nome vostro ad esempio salazar ok questo verrà salvato dentro lo vedremo adesso che verrà salvato dentro una cartella dentro la famosa cartella .minecraft la modalità iniziale suggerisco la modalità creativa originalmente e poi suggerisco di di opzionare strutture si tipo di mondo normale baule bonus mettetelo magari tipo di mondo può essere piatto può essere biomi vasti un biome dove c'è inverno per dire montagna palude insomma mare eccetera amplificato non direi che non è il caso normale va benissimo strutture si vedete che compaiono i villaggi e le segrete comandi si perchè così potete fare il game mode e via il give che sono i comandini che abbiamo visto fatto creiamo il nuovo mondo ed ecco che all'inizio c'è un po' di nebbia ma poi abbiamo il nostro mondo in cui siamo nella modalità vedete creativa come facciamo sapere che siamo in creativa vedete che in basso ci sono la hotbar con nove posizioni qui posso muovere con la rotellina del mouse vedete che si sentono dei rumori c'è quello di una porta insomma perchè e poi mi muovo con W con il mouse e poi W per andare avanti A per stare spostarmi sulla sinistra D per spostarmi sulla destra S per tornare indietro e poi tendenzialmente abbiamo qualche altro piccolo tastino che è per esempio la barra che salta che è molto importante perchè permette di salire vedete che qui devo premere la barra altrimenti non salgo e vedete che sono arrivato direttamente in una città oltretutto se continuo a tenere la barra premuta volo qui ci sono dei lupi quindi esercitatevi a volare quindi fate barra barra con una certa sequenza e poi shift per scendere quando si vola si va sempre in si va sempre con W ASD che sono i comandi base shift per scendere e anche qua vale il discorso che se si va in acqua in modalità survival tra l'altro vi spiego brevemente modalità survival la potete cambiare con gm1 forse? no perchè bisogna fare qua game mode 1 per modalità creativa e game tab mode 0 per la modalità invece sopravvivenza vedete che quando siamo in modalità sopravvivenza abbiamo i cuoricini e quando questi cuoricini scompaiono diciamo moriamo e poi a destra ci sono le cosce di pollo che dicono quanta fame abbiamo quindi se noi andiamo in acqua notate che quando andiamo in acqua a un certo punto compaiono le bollicine e quando spariscono tutte quelle bollicine moriamo per mancanza di ossigeno quindi dobbiamo riuscire a uscire dall'acqua e in tempo per prendere fiato questa è una cosa importante così come vedete se per caso dopo un po' avremo fame e quindi dobbiamo procurarci da mangiare questo non è pronto ah una cosa interessante quando vi muovete e passate su questi oggettini volanti li prendete e quindi li trovate nel vostro inventario che avete un coniglio crudo e pelle di coniglio questo perchè questo lupo ve l'ha ucciso ora se voi date il coniglio alla lupo niente, non succede niente quindi ecco una cosa che dovete imparare qua è che interagendo con il mondo interagite col tasto sinistro vedete che se clicco il tasto sinistro del mouse la cosa che ho in mano diventa cioè viene usata per interagire col mondo in maniera tendenzialmente distruttiva mentre invece se interagisco con il tasto destro quella cosa viene usata viene usata per fare qualche cosa quindi usata e poi c'è un'ultima operazione che è Q che lancia il butta per terra ciò che ho in mano quindi se ho in mano adesso la coniglio crudo faccio Q vedete che viene buttato e quello è il coniglio crudo e per riprendere ci passo sopra ora per questa primissima no, facciamo soltanto l'uscita esc per uscire quindi usciamo possiamo vedere un po' di cose riprendere la partita salva e torna al menu principale e qui possiamo a questo punto decidere di fare esci dal gioco con esci dal gioco torniamo su questo menu questo menu torniamo qua se abbiamo messo l'opzione del nostro no, c'era aspetta, era nell'impostazione di tenere aperto il launcher altrimenti usciva proprio al sistema ora, come dicevo prima come primissima cosa come abc di minecraft questo è tutto